Così è la vita. Ha trovato le parole giuste anche all'ultimo Alberto Burzoni, l'imprenditore piacentino che ha chiuso gli occhi per sempre ieri a 81 anni nella sua casa di Rivalta. Titolare della BFT di Gariga, quando lo chiamavano per acquistare la sua azienda rispondeva che non l'avrebbe venduta mai perché era dei suoi collaboratori. Ieri è stato il giorno del lutto per tutti. Sono circa 60 i dipendenti e gli agenti di vendita rimasti in silenzio pensando allo stabilimento di Gariga di Podenzano che perde il suo fondatore. Tutto cominciò quasi mezzo secolo fa nello scantinato di casa di via Corneliana, fino alla nascita della sede attuale ai casoni di Gariga nel 1988, dove l'azienda si è consacrata leader nel settore della progettazione e distribuzione di utensili. Imprenditori e dipendenti ne ricordano la capacità, la lungimiranza, la generosità. Alle riunioni più eleganti e patinate non nascondeva le sue origini contadine, ne andava fiero. Alberto Burzoni non era solo un imprenditore di successo ma anche un grande amico e generoso sostenitore di svariate discipline nell'ambito sportivo piacentino. Diverse le società griffate BFT Burzoni nell'ambito del volley e del ciclismo, ma l'impegno di gran lunga superiore lo ha profuso all'indirizzo del calcio, tra le sponsorizzazioni per il Piacenza e quelle a sostegno del Pro Piacenza, approdato con orgoglio tra i professionisti. Profondo quindi per lo sport piacentino il vuoto lasciato da Alberto Burzoni, persona tutta ad un pezzo, solo apparentemente burbera, ma con un cuore grande. Alberto Burzoni lascia la moglie Carla e le due figlie Arianna e Olimpia.